Siamo alla quarta edizione dell'altra metà del libro, il festival di coloro che leggono, il festival dei lettori, il festival degli autori e quindi una tre giorni che si svolge a Palazzo Ducale, il 13, il 14 e il 15, dove i lettori potranno incontrare autori italiani, esteri, vedere mostre, la mostra in particolare delle copertine dei libri di Camelleri, effettuare workshop, reading, musica e quindi tanti appuntamenti per tre giorni consecutivi, ma poi ancora l'altra metà del libro continuerà presso il teatro dell'archivolto, continuerà presso la biblioteca di Amicis con la notte dei libri insonni e con altri appuntamenti. È sicuramente un'iniziativa di grande valore organizzata da Fondazione Palazzo Ducale in collaborazione col Comune di Genova e con l'Associazione Primo Levi che vedrà concentrarsi proprio qui al Ducale tanta voglia di leggere e tanti libri. Genova è una città di lettori, una città di lettori che amano non solo l'ebook ma anche il libro cartaceo e si riscopre in questa altra metà del libro un momento di confronto ma anche di lettori che vengono da fuori Genova per cogliere l'archosione di questi incontri ravvicinati con gli autori. Genova è una città di lettori che amano non solo l'ebook ma anche di lettori che amano non solo l'ebook ma anche di lettori, un'escrittura di lettori più